www.mariosi.it Grazie a tutti. Quindi noi portiamo questo bambino incantato, ecco adesso quest'anno mettiamo la vita e portiamo anche il bambinetto con noi, lo portiamo per dare questo senso ancora più forte, che Gesù incantato per noi esce per le serate e annuncia, ma annuncia con i nostri senti, con la nostra vita, in famiglia, in questo caso per le serate. Poi in questo caso, dove c'è il presepe, spiegheremo la figura dell'orazione. Va bene? Quindi vediamo un po' la strada, cioè si parte da questa incantazione, Gesù incantato è fatto un bambino, ma il bello Gesù nasce un bambino, ma poi diventa un adulto. E noi diamo che altro dobbiamo diventare anche con gli adulti, non dobbiamo rimanere bambini, sempre non troppo, ma noi bambini dobbiamo diventare grandi e adulti, e quello poi ci può fare per l'orazione di Gesù Cristo. Va bene? Adesso ci camminiamo, andiamo avanti, lo spessore con il bambino e l'orazione, dopo le parole. Ci abbiamo questa nuova volta. Ci si aspettano gli ammalati, gli anziani, Casandrino, tutto, la parrocchia, ecco, va a portare un po' di gioia, un po' di luce e anche qualcosina di dolce a tutte le persone anziane e a tutti gli ammalati. Va bene? Andiamo, potete cantare, cantori, cantori cantate, cantate, cantori. Sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.